Una con tutte, eh sì, ciao. Porca puttana, venuto. Undici moduli! Undici moduli! Però ho sei minuti, io l'ho fatta con trentasei, credi mi... Allora. Allora, sempre la solita cosa, se c'è il morsi me lo per primo. Sì, esatto. Se lo vedo, perché se sta dietro la bomba, per dire non lo vedo subito. Se sta dietro la bomba, è il tempo di tirarlo. Prima che inizi, non credo. Vabbè, provo. Sì, lo puoi fare. Comunque, sono undici moduli, quindi ce ne sarà veramente uno di tutti i tipi, visto che ci sono dodici cosi sulla bomba. E uno serve per il timer, insomma. Allora. Ti sentivo a mezzo, ma vabbè. Punto, punto, punto. Non sono riuscito a leggere un lecce dopo. Voi? Ah, solo punto, punto, punto. Eh sì. Ok, dopo se riparte ve lo dici, dimmelo. Un altro? Sì, un altro. Allora, cavi quelli abc. Ok, sequenza di cavi, sequenza di cavi. Intanto dimmi il primo com'è. Rosso A. Allora, adesso te lo dico. Non tagliare. Rosso A, di nuovo. Non tagliare. Ok. Blu A. No. Ok. Nero C. Sì. Nero C, di nuovo. Sì. Nero B. Sì. Ok. Rosso C. No. Nero C. Sì. Blu A. Sì. Ok. Simon Says. Simon Says. Ok, allora, Simon Says. Dimmi intanto se il seriale contiene una vocale. Il seriale... non contiene vocali. Ok, cosa l'ampeggio? Giallo. Rosso. Ok. Poi, giallo blu? Rosso giallo. Giallo, blu, giallo. Rosso. Giallo rosso. Ok. Giallo blu, giallo giallo. Rosso, giallo rosso rosso. Ok, a posto. Password. Password. Prima lettera. D di domodossola. Allora, eh... Nulla con la D. S. Dimmi la seconda lettera. R, J, E, I, Q, Z. Sono queste. E, I? Sì? La seconda lettera è E. Dimmi se la seconda lettera c'è. M, O, P, T. No. Cambiamo lettera prima. Cambiamo prima lettera. Eh, W. W. Eh, water. No. No. World. No. Which. No. World. Come si scrive? World. W, O, R, L. No, vabbè, nella W non è. C'è una R alla seconda lettera? Sì. Bright. Oh, cazzo. Poi. Però, vabbè, niente. Cavi complicati. Sì, lo so, se lo fava io. Cavi complicati, dimmi. Rosso stella. Rosso stella. Taglia. Led. Solo led. Non tagliare. Rosso led. La bomba ha due o più batterie? Sì. No, oddio. Taglia? Ok. Blu. Blu da solo? Sì. Se l'ultima cifra del seriale è pari, taglia. Se l'ultima cifra del seriale, no. Quindi, led, stella. Led da solo? Led e stella. Led e stella. Se la bomba ha più di due batterie, taglia. Ok, labirinto. Oh, no, è labirinto. Dimmi, dove sei, intanto. Sono in alto a sinistra. Scusami, scusami, dimmi, dove c'è il che? Allora, sono... Quinta colonna, seconda riga. Quinta colonna, seconda riga... E seconda colonna, quarta riga. Ok. Ok, trovato. Te dove sei? In alto a sinistra e devo andare non in fondo a destra, ma in quello subito in alto a sinistra... Non in basso a destra, ma in quello subito in alto a sinistra rispetto a lui. Ok. Uno a destra. Sì. No, è sbagliato. Ah, scusami, ho invertito i cosi. Oh, merda. Niente, si rifà. Ok. Perché mancano due minuti e siamo a metà. No, nemmeno ne manca uno solo. Dio, ho il più di tosto. Madonna, sono esplose tre bombe insieme. Vabbè. Sì. Perché al mio tossire ti si è aggiunta la bomba. Esatto. Riproviamo con il Morse. Stavolta ti dico... Cerco di dirti due lettere e te provo a trovarlo subito. Ok. Eh, l'ho perso. Allora, chi per primo? Chi per primo? Dimmi intanto chi... Sì. S-e-e. Allora... Basso a destra. Nothing. U-A-C-H. Right. Ok. Ok. Poi... U-R. Basso a destra. Blank. Wait. Right. Right. Ok. Hold on. Dove sta? Ok, basso a destra. Blank. Wait. Right. Ok. Ok. Memory. Oddio. Dimmi intanto che cosa c'è. 3. Ok. I bottoni della terza posizione. Che è un 2. Te ti ricordi la posizione e io il numero? Esatto. 1. I bottoni con scritto 4. Ok. Che è... Un 4. Eh no, la posizione me la ricordo io. Scusami, scusami. Scusami, scusami. 2. 2. I bottoni con la stessa scritta di quello premuto nello step 1. Quindi 2. Ok. Poi? 3. I bottoni con la stessa posizione che è lo premuto nello step 2. Nella stessa posizione. Ok, quindi è un 1. Un 1? Sì. 3. Il bottone con la stessa scritta di quello premuto nello step 4. Oddio, mi sto incasinando io. L'ho fatto da solo, non ti preoccupare. Allora, sequenza di cavi. Sequenza di cavi. Nero B. Nero B. Allora, nero B. Sì. Nero A. Sì. Nero A. Nero? A. Di nuovo. Rosso B. Rosso? B. B. No. Ok. Blu B. Sì. Rosso B. Sì. Ok. Blu C. Sì. Nero C. Sì. Nero A. No. Ok. Cavi complicati. Quelli con la stellina a luci red. Allora, dimmi. Rosso, led, stella. Rosso, led, stella. No, non tagliare. Stella e basta. Stella da sola taglia. Rosso, led. Rosso, led. Taglia se la bomba ha due o più batterie. Ok, non ce le ha. Led, stella. Eh, led, stella. Led, stella. Taglia se ha più di due batterie. No. Eh, blu, led. Blu? Led. Blu, led. Se la bomba ha una porta parallela, taglia. Eh, sì, ce l'ha, ok. E blu da solo. Blu da solo. Taglia se l'ultima cifra del seriale è pari. Sto cazzo di seriale, sì. Ok, perfetto. Simon says. Simon says. Eh, seriale contiene vocali? Lo so, sì, le contiene. Ok, cosa lampeggia? Lampeggia il giallo. Eh, verde. Ok. Giallo, giallo, quindi verde, verde. Sì. Poi, giallo, giallo, blu. Verde, verde, rosso. Ok. Tasterino, con i quattro simbolini strani. Ok. Non ce la faremo mai. Dimmi il primo. Serpente, stella piena, b minuscola, tridente. Ok. Tridente, b minuscola, serpente, stella. Ok, password. Prima lettera. P, R, D, E, O. No, no, prova place. Cioè, seconda lettera. C'è una L o una O? No. Allora cambio la prima. R, come prima. R. La seconda lettera c'è una I? Sì. Right. Vuoi che provi right? Perché right c'è. Ok, tre cavi. Tre cavi. Ci sono cavi rossi? Sì. Come? Sì, sì, sì. L'ultimo cavo è bianco? No. C'è più di un cavo blu? No. Taglia l'ultimo cavo. Pulsante giallo detonate. C'è più di una batteria sulla bomba? No. Hai detto è giallo? Sì. Tieni premuto. Blu. Quando c'è un 4? Eh sì, ciao, aspetta. Ok, labirinto. Boh. Oddio. Che cazzo devo fare? No, ascolta. È impossibile. Mancano 18 secondi, quindi... Fala a caso. Eh, per forza. Eh, ciao. Madonna. Cioè, è impossibile. Mancava il codice. Già che c'eri ti volevo chiedere di andare sicuramente. Sul? Sul mors e provare a caso una delle due opzioni che ti volevo dare. Allora, bisogna studiare una strategia, perché così non si va da nessuna parte. Bisogna studiare una strategia, perché se no non si va da nessuna parte. Ascolta. No, 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 no. Dimmi. Facciamo così. Però, allora, Ben, scusa, mettiamoci d'accordo su una cosa. Dimmi. Io sto facendo all'università, ridi quanto ti pare, il calcolo matriciale, cioè le matrici. Per questo, quando facciamo il labirinto, io ti dico colonna X e riga Y, ok? Sì. Allora, da ora in poi, per velocizzare quel processo, io ti dico due numeri in sequenza, ok? Quando ti devo dire i cerchietti dove stanno, se io ti dico 2,4, vuol dire riga 2, colonna 4. Sei ritornato adesso. Allora, quando dobbiamo individuare i cerchietti verdi, ok? Io ti dico due numeri in sequenza, tipo 2,4, 2,4, ok? Te devi capire, da questo 2,4, che mi sto riferendo alla riga 2, colonna 4, ok? Ok. Quindi, prima viene la riga, poi viene la colonna. Ok, perfetto. Questo sempre, lo farai anche te. Poi, dopo che ti ho detto i due cerchietti, ti dico dove sto io, che sono il pallino bianco, ora mi sono insalito e l'ho capito, nello stesso identico modo. E poi, sempre con numero 1 e numero 2, ti dico dove devo andare, va bene? Ok. Secondo, cercherò di fare, inizialmente, morse e labirinto, nel seguente modo. Ok. Se becco il morse, cerco di intercettarlo e capire quali sono le lettere. Se così non fosse, ti dico immediatamente il labirinto, ok? Va bene. Poi, passeremo al memory e al kipper primo, e il resto si vede. Allora, iniziamo. E poi si vede. Hai ucciso qualcosa, di fondo. Non è vero. Sto iniziando a perderti, sappio. No, 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 allora. Ok, ora ci sei... Labirinto, labirinto. Ah, ma sei già dentro? Sì, labirinto. Dimmi. 2, 3. Allora, aspetta. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Ok. 5, 1. Ok, sì, e sai dove? Io sono 4, 6 e devo andare in 4, 1. 4, 6 e devo andare in 4, 1. Ok. Tutto su. Sì. 1 a sinistra. Sì. 2 giù. Sì. Sinistra giù. Sì. No, scusa, mi sono sbagliato. Sinistra giù, sì. Sinistra. Ok. Su, su. Sì. Sinistra, sinistra, sinistra. Sì. Giù, giù. Sì. Sinistra giù. Ok, password. Ok, prima lettera. T, come Torino. Seconda lettera, c'è una H? No. Cambia lettera. E. Prova Every. No. Cambia lettera. F. Seconda lettera, c'è o una I o una O? No. Allora, W. W. Nella seconda lettera, c'è una A o una H? C'è una A, water. C'è una water. Sì. Allora. Proviamo il Morse, ascolta. Ok. Allora, teniti pronto perché tra poco inizio a dirteli. Aspetto che la sequenza finisca. Eccoci. Allora. Punto, punto, punto. Punto, 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 punto. Tre punti e poi quattro punti. Dovremmo averla già fatta, tra l'altro. Tre punti e quattro punti. E. H. 35.05. Perfetto. Simon says. Vocale nel... Sì, arrivo. Non ci sono vocali e lampeggia il blu. Lampeggia? Il blu. Giallo. Ok. Blu, giallo. Giallo, rosso. Ok, poi. Blu, giallo, verde. Ehm... Giallo, rosso, verde. Ok. Ok, poi. Blu, giallo, verde, giallo. Giallo, rosso, verde, rosso. Ok. A maledizione ancora. Blu, giallo, verde, giallo, rosso. Blu, giallo, rosso, verde, rosso. Blu, giallo, giallo, giallo. Perfetto. Giallo, giallo, giallo. Sì, questo sì. Allora, cavi complessissimi. Allora, cavi complessissimi dimmi. Led stella. Ehm, led stella. Fermo. Ehm... La bomba ha più, ha due o più batterie? Sì. Taglia. Led e basta. Led da solo taglia. No, scusa, fermo. Eh, troppo tardi Stella e basta Stella e basta, sì Blu e basta, ok, no niente Tasterino con quattro cosi sopra Ok, hai quattro simbolini Dimmi il primo, esatto Allora, faccina Stella piena Paragrafo C Ok, faccina C, paragrafo stella Memory Oh no, intanto dimmi che cosa c'è Tre Allora, io ho la posizione e te i numeri? No, io ho la posizione e te i numeri Ok, ok Nella terza posizione cosa c'è? Un uno Ok, poi Tre Il bottone nella prima posizione che è? Un tre Poi Quattro Il bottone con scritto quattro Ok Poi? Due Due Il bottone nella prima posizione che è? Un due Poi? Uno Il pulsante con la stessa scritta di quello premuto nello step Quindi? Uno Ok Sequenza di cavi Sequenza di cavi, allora Sequenza di cavi, intanto dimmi il primo Nero A Taglia Nero C Nero C Sì Nero A Nero? A No Blu B Sì Poi Blu B No Nero B No Nero B Nero? B Un'altra volta Nero B Un'altra volta Nero B Bene non ce la faremo mi dispiace Quindi provo a caso E Taglio il quarto cavo Ma lo sai cosa ci ha fregato? Ci ha fregato il cavo bianco di merda che abbiamo tagliato per sbaglio Porca Madonna E' perché mi sono confuso io E' stato un errore mio Sì fatti Vabbè Allora però Però c'è Vogliamo provare a farla fare a me o vuoi continuare a te? Facciamo il mio ultimo tentativo Allora Ok Sarà così ascolta Dimmi Ho sbagliato anch'io Ho sbagliato anch'io perché avevo detto una cosa e ho fatto un'altra Quindi Quando hai finito di parlare aspetta un secondo a quincere Va bene Farò così Come prima Se c'è il mors parto in quarta con il mors Altrimenti labirinto Ok Se faccio prima il labirinto poi faccio sicuramente il mors E se faccio prima il mors poi faccio sicuramente il labirinto Subito Se faccio prima il labirinto Versa Ok Cioè uno segue l'altro Quindi ti tieni pronti su quelli Poi mi sembra che sul manuale Il Chi per primo Sia vicino A La memory Esatto Quindi saranno i due successivi che faremo Ok 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 si Faremo memory e subito dopo Cioè O memory O memory o chi per primo Te lo dico io nel caso Ok Poi Poi A seguire I cavi Mi andava a buio lo schermo Poi a seguire i cavi complicati e sequenziali Ok Ok E poi si vede Pronto Ok aspetta 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 Devo un attimo andare via perché ti devo andare un secondo Vai vai Poi Siamo umani anche noi gente Cercate Ti lascerò parlare un po' male di me No 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 vado anch'io e ma No anzi no no niente Vai vai Mi faccio i cazzi miei Bella chi è tornato per primo No io non sono andato alla fine Ah Ok Io di dentiermi Voi signori State vedendo in questo momento La molletta da bucato E chi avrà un minimo di cui capirà come mai ce l'avevo Hm E Kateva non lo saprà perché in realtà non glielo ho detto Eh purtroppo no Hm Allora Riassumimi qual è l'ordine che vorresti fare Morse se possibile poi labirinto altrimenti lo invertiamo Esatto Poi ho detto memory e chi per primo Esatto Ok E poi cavi complicati sia quelli complicati sia quelli sequenziali Ok E poi il resto come viene viene Ok Ma possibilmente password diciamo E si può iniziare Vado Ok Quanto è tosta? Sì boia Allora Hello? Eh Eh Labirinto Labirinto Allora Ah ok Labirinto Uno 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 Lo devo trovare Ok Ok poi Quattro uno Ok ho capito qual è dove sei? Cinque uno E devo andare in uno cinque 5 e uno Ok ho capito dove sei Tutto su Ok Destra Sì Linea punto Linea punto 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 linea punto Ok Eh Ripeto Ah no Oddio Oddio serve anche una terza lettera Serve una terza lettera Vabbè senti facciamo a caso non c'ho voglia non ce la facciamo se no dai Prova 35 72 Oh vai Allora Sì vai Poi Cavi E memory 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 Te ti ricordi il numero Io la posizione 1 Il bottone nella seconda posizione Che è un 2 Poi 2 Il bottone nella stessa posizione Ok che è un 4 Ok poi 1 Il bottone con la stessa scritta Di quello dello step 2 Quindi con un 4 Ok Poi 4 Il bottone nella stessa posizione Di quello dello step 2 Quindi un 4 No nella stessa posizione Quindi Esatto ed è un 2 Ed è un 2 Ok 2 Il bottone con la stessa scritta Di quello dello step 2 Quindi 4 Ok Chi per primo T-H-E-I-R Jair Di loro Jair 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 Dove stai Dove stai Bastardo Centro-destra Ok Middle No First Yes U-H-H-H No Ok 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 Display Basso-destra Right Yes Nothing Ready 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 Red Come rosso Centro-destra U apostrofo R U apostrofo R U R Ok posto Poi Password Prima lettera T Come? T di Torino La seconda lettera C'è una H No Cambia G di Grandine Prova Great No Cambia lettera N Never Sì Ok Cavi complicati Ok Cavi complicati Intanto dimmi Sì Rosso E basta Rosso Da solo Se l'ultima cifra Del seriale Pari Taglia Ok Rosso Stella Rosso Stella Taglia Rosso Blu Rosso Blu Se l'ultima cifra Del seriale Pari Ok Poi Blu E basta Blu Da solo Stessa cosa Ok Rosso Stella Led Rosso Stella Led B Se la bomba Ha più di due batterie Taglia Sì Cioè Ok E Stella Stella Da solo Taglia Ok Perfetto Sequenziali Sequenza di Cavi Dimmi il primo Nero B Sì Blu C No Ok Blu A Sì Nero A Sì Nero B Sì Poi Rosso B No Blu C No Rosso B Sì Rosso C Rosso C No Ok Puzzanti e cavi normali Cavi normali quanti? Sei Allora Sei cavi Ci sono cavi gialli? Sì uno C'è più di un cavo bianco? No Ci sono cavi rossi? Sì Taglia il quarto cavo Ok Simon Says Verde Vocali Vocali Non ce ne sono Provai il Simon Says Oddio Oddio Non lo trovo No ma è impossibile Ma che cazzo È impossibile Dimmi cosa c'è Scusa No Mancavano 10 secondi Quanti te ne mancavano A parte il Simon Says Eh me ne mancavano 3 Come cazzo? Ascolta Porca trove Oddio Come hai fatto con for up alla in Con 36 secondi? Ascolta Ciccio Sei morto Senti allora adesso provi te Sì ora provo io Però Mi sembra troppo strano che non sia fattibile Allora facciamo in quest'altro modo Dimmi Ascolta me Cambiamo completamente approccio Sono 11 moduli E vediamo I cavi c'erano Il bottone c'era I tastierini c'erano Simon Says c'era Chi per primo c'era In caso di memoria c'era Codice morse c'era Cavi complicati c'era Sequenza di cavi c'era Labirinti E password No sono Sono tutti quelli non bisognosi Sono proprio tutti Ok Ok Allora farò così Io ti dirò quale modulo devi cercare Ok Ok Così partiamo dal più semplice Facciamolo così molto bene Facciamolo dal più semplice al più difficile Così io sfoglio le pagine tranquillamente Sì E si fanno Ok Ok aspetta Adesso Toriel davanti che mi sta guardando Non posso perdere Vediamo se questo approccio funziona Vediamo se il nome funziona Start Allora Quindi inizio Cerca per prima cosa i cavi Ok Ok Dimmi te che cosa cercare Esatto Cavi Cerca i cavi Ci sono Tre cavi Ci sono cavi rossi Rossi sì L'ultimo cavo è bianco No C'è più di un cavo blu No Taglia l'ultimo cavo Ok Cerca un bottone Bottone Blu con scritto press C'è più di due batterie C'è una spiaccese etichettata FRK Nessuna Tieni premuto Giallo Quando c'è un 5 Ok poi Poi tastierini B minuscola con la quadra Interrogativo al contrario Il 6 ubriaco e la faccina 6 B Punto interrogativo Poi Simon Ok Lampeggia al blu e C'è una vocale Il seriale C'è una vocale C'è Allora Lampeggia al blu Rosso Poi Blu Blu Rosso Rosso Esatto Blu Blu Rosso 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 Sì Blu 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 Verde Rosso 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 Giallo Fatto Poi Poi Chi per primo Blank Allora In centro A destra Sure You are Done Fatto Inizio a sentire rumori Dei apostrofo re Basso a sinistra U H H H H H H H No L'ho sbagliato Cos'era Ben No L'ho sbagliato Pensato fosse la risposta 6 Size Si Devo cercare Questa si perde Anche perché Non ho capito Cosa devo cercare Dice Size Ma dove In quel C'è la prima O la seconda Te cercalo Non si riazzera Quando sbagli Non lo trovo Si riazzera Allora no Niente Non si riazzera Senti Mi faccio ammazzare Si si Meglio Meglio Però Aspetta Dov'è Size Qua non lo trovo Mi sono fatto ammazzare Perché Hold the next Don What Where You are You are You are Press Wait Ok Middle Right Left What Yes Nothing Blank No First ready Nel display Dove Allora Quando sbagli Il chi per primo Non si riazzera Hello Steven Io ci sono Ma ti sento a pezzi Ora mi senti Ora si Ok Però Allora ascolta una cosa Aspetta Ok Non lo sapevo Questa meccanica Cioè Non me la ricordo Benissimo Però Quando uno sbaglia Secondo me tanto vale Farsi saltare in aria Perché Il timer Accelera Non ce la facciamo Cioè Lui ti dice Che ci sono Tre strike Ma è come se ce ne fosse Ma no Ho capito Retrai Cavi Cerca i cavi Uno di due Ce la deve fare Cavi normali Sono Cinque L'ultimo cavo E nero No C'è solo Un cavo rosso Nessuno Ci sono cavi neri Si Taglia il primo cavo Ok Pulsante bianco Lo scritto Detonate Ci sono due batterie Verde Verde E c'è una vocale C'è una vocale Lampeggia il verde Giallo Verde Giallo Giallo Verde Verde Giallo Verde Rosso Verde Ok Verde Giallo Blu Giallo Blu Giallo Verde Rosso Verde Rosso Ok Chi per primo Sì Vedere S e e In basso a destra Like Allora U apostrofo R Next Yes Il centro a sinistra U U H H H Fatto Yes Centro a sinistra Yes Ok Right U H H H Mi Poi Poi In caso di memoria Memoria Memory 4 Allora Premi il bottone Nella quarta posizione Che è un 3 Poi 1 Premi il bottone Con scritto 4 Ok 2 Premi il bottone Con la stessa scritta Di quello premuto Nello step 1 Cioè 3 3 Ok 3 Premi il bottone Nella stessa posizione Di quello premuto Nello step 2 Ok C'è un Ok 1 Premi il bottone La stessa scritta Di quello premuto Nello step 1 Cioè Un 3 Fatto Poi Poi Codice morsa Vai lì E aspetta che inizi Vai lì E aspetta che inizi Punto 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 Linea Punto Punto Linea Linea Punto Linea Fine Merda Qual'è Potrebbe essere 3592 Però non ne son sicuro Però pensi Sbagliato No Orca Si muore Scusa Aspetta 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 I morse Rimaniamo Dell'idea Che se Aspetta Prova Con 3545 Mi sono fatto Ammazzare Ah vabbè Allora Facciamo così So che dobbiamo seguire Il ritmo Però se te ti siede Un foglio Facciamo che in morse Te lo segni subito E poi ci pensiamo Quando si arriva Ah Ascolta Sì bravo Facciamo Io l'ho fatto così Con Fora Facciamo La strategia Sarò uguale a quella Di prima Ma vediamo Cioè Strategia Quale a quella Di prima Eccezione Per il morse Cioè Prima cosa Il morse È più importante Di tutti Esatto Ok Ovviamente Te lo segna All'inizio E poi Quando ci arriviamo Lì Ci si pensa No 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 Lo facciamo subito Cioè Te mi dici Le lettere Sì Ok Bene Ce la facciamo Gotmama Possiamo faccia No Se è un'ora E siamo su questa Mappa Mare In Merda Punto 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 Linea No no Lo sbagliato Dio Dio No Io mi fai Mi ammazzo Aspetta 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 Prova Ci No no Mi sono ammazzato Io a caso Sono ammazzato Io a caso Ho preso Dalla follia Ma non devi Aspetta Tanto ora si rifà Tanto ora si rifà Ma se per caso Ma se per caso Beccavamo Nella giusta Aspetta Ad ammazzarti Con il morso Ok Ok Ce l'ho Ce l'ho Vai Linea Punto 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 Linea Punto 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 Linea Punto Linea Punto Fine All'inizio hai detto Linea Punto 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 Credo fosse Oddio T S S No Punto 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 Allora Sì È una S E poi Bo Punto Linea Punto Che sarebbe Un cazzo In culo No bene Senti Fatti saltare Stavolta Oddio Sto facendo Uno a caso Aspetta Oddio Oddio Qual è Sto facendo Il kiper primo A caso Non è possibile Oddio 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 Cazzo Abbiamo fatti Due Del kiper primo A caso Eh Anch'io Prima Questo Andrà Nel testo Questo Andrà Nel testo Ok Retrai Retrai Sto portando la follia In tutto questo Ok Morse Vai Linea Punto 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 Linea Punto 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 Linea Linea Punto Linea Fine Linea Punto 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 Te lo ridico Da capo Punto Linea Punto 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 Linea Linea Punto Linea Dimmi Eh Aspetta Un attimo Non si capisce Un cazzo Ma come Te lo giuro Dovrei Scusa Inizia con Punto Linea Punto Qua non c'è Un c'è No Linea Punto 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 Scusa Ora Aspetta Che devo Trovare Linea Punto 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 Ok Aspetta Non è Ah Vanculo Era la B Perché Cosa Inizia Per B Qua Bombs Bistro Bits Era 3600 3600 Lo provo Però No Non andava bene No Come scusa Allora Prova Non andava bene Sono morto Cristo Ma come Dio Sa Come Caccia È Possibile No Sei Te Che Non Stai Capendo In Morse Perché A volte Ti Dico Lì Ma Io Non Amor Se Mi Dici Punto Lì Avuto All'ascolta Fa La Rosa Mi Dici La Lettera Dopo Che Sono Passate Certe Linee O Punti Perché Io Se Tu Mi Dici Punto Linea Punto Linea Non Capisco Se Una Parola Intera Sono Due Proverò A dirtelo E che Va A caso Il Coso Aspetta Tipo Fa Se Tipo Fa Punto 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 Linea Se Tipo Fa Punto 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 Linea Te 3.535 3.535 Oh Bene Allora Iniziamo Cavi 4 C'è più di un cavo rosso? Nessuno L'ultimo cavo è giallo? No C'è più di un cavo blu? No Taglie il primo cavo Ok Poi Pulsante Rosso Con scritto Detonate Non ci sono batterie Allora Tieni premuto Bianco Quando c'è un 1 Ok Simbolini Sì La lambda Quella strana Triangolo Con l'euro capovolto E la T N strana E testa Dello stickman E' una N Che ha due prolungamenti Sui lati Sì Sì E' una N Che ha due Prolungamenti Sui lati Sì Ah Testa L'onda N Triangolo Ok Poi Simon Sense Guarda il numero seriale Dimmi se c'è una vocale E c'è una vocale Ok Lampeggio verde Quindi giallo Verde Rosso Giallo Blu Verde Rosso Verde Giallo Blu Giallo Fatto Chi per primo Sì U R In alto a sinistra In alto a sinistra Like U apostrofore Next U R Nothing Centro a sinistra Ok Middle No First Yes R E E D In basso a sinistra U H U H U R U Fatto U Poi Bene Memoria Memoria C'è un 4 Premi il bottone Nella quarta posizione Che è un No non mi interessa Sì No me lo devi dire Che 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 Era Quello Nella quarta posizione È un 1 Ok Adesso Dimmi il numero Eccesso 1 Premi il bottone Con scritto Con scritto 4 Ok 4 Premi il bottone Con scritto Con scritto 4 Ok Ti sento a pezzi 2 Nella prima posizione Ok C'è un 1 3 Premi il bottone Con la stessa scritta Di quello premuto Nello step 4 Cioè un 3 Ok No Non va bene Da 0 Da 0 No No In posti Dio sa Cosa cazzo Abbiamo sbagliato Che cavolo abbiamo sbagliato suoni di un ottero d'attilo in fase di accoppiamento riserva di straccio ma questo è troppo difficile scusami troppo di no è che qui ci siamo incasinati noi in qualche modo a parte che ogni tanto ti sentivo a pezzi e lo allora va con ok faccio ritrati se è che ti sentivo a pezzi una certa dove questo non ci possiamo fare un fermo punto 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 linea punto linea punto punto linea punto da capo punto 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 linea punto punto linea appunto linea ok l'ultima lasciala stare sì 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 tranquillo che a 35 92 poi guarda se gott ma va cavi 4 c'è più di un cavo rosso nessuno l'ultimo cavo già sì ci sono però qua cavi ross nessuno sono tagliati ok rosso con scritto c'è più di due batterie nessuna storia mi rilascia brevi rilascia immediatamente ok poi simbolini copi d'alt o disney culo landa copyright culo walt disney landa ok poi non sai non sai non sai non sai non c'è una vocale non c'è una vocale allora beh come verde 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 rosso verde verde blu si rosso giallo verde verde blu rosso dio verde verde rosso giallo blu verde verde blu rosso giallo fatto poi per primo chi per primo leggere oddio a centrodest you apostro for it you you apostro for it next display basso destra left no centro destra you apostro for it you you apostro for it tour non va bene come no aspetta real leggere centrodest you apostro for it you apostro for it you apostro for it you apostro for it right ok middle yes fatto poi memoria 1 prem bottone nella seconda posizione che è un 4 ok secondo me si perdono scritto 4 ok 3 premio bottone nella stessa posizione dello step dello step 2 ok c'è un 2 ok 1 premio 4 chris fatto dimmi 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 non ce la faremo mai cavi complicati cavi complicati perché l'ultima fine talio ok poi rosso stella non st間 per granosso len Non si farà mai Non tagliare il cavo Mi suona pure il telefono Blu led Non lo faremo mai C'è anche un labirinto Tagliare il cavo Eh sì ciao 49 secondi labirinto 1 1 1 4 Ben sì ciao Bentornato 1 1 4 1 Che vuol dire Eh ciao Quanto cazzo è possibile Sarebbe possibile Se il discord non facesse saltare L'audio a merda Ora state riuscendo Da vedere petto divino Che ritorna all'incazzatura totale No ora le trai Ora la voglio finire questa No no Ben ascolta no Silenzio No non ce la facciamo Perché con discord non ce la facciamo Linea Aspetta Punto Punto Silenzio Linea 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 Punto 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 Da capo Linea Punto 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 Silenzio Linea 3 5 5 2 3 5 5 2 Non va bene Non va bene Che cazzo dici 3 5 6 5 andava bene I cavi normali Sei Dimmi i cavi normali Non ridere Ho detto non ridere Sei cavi Tem Aiuto Vieni qui Non chiedi aiuto a tem Io ho gott mano qui con me Stai zitto E dimmi sei cavi Vuoi che faccia il tasterino da solo Si Non ho fatto il culo Speravo di ricordarmelo No bene Dio Mi hai fatto rovesciare l'acqua dalla bocca Non vedo l'ora di rivedere questo pezzo in video Ben Ascolta Sei arrabbiato di tutto Ma così non risolviamo nulla Facciamo un'altra Adesso L'ho fatto per il bene Dell'ignoranza Tanto valeva farlo Ormai Allora Ora ci fermiamo Ascolta me Ora ci fermiamo Te ci fai ripartire la tua Il tuo audio su skype Così evitiamo problemi Ok Ce li proviamo Facciamo un back next into game Dai Bene Ok Back Ero incazzato Ero incazzato A questo punto facciamolo Non esiste più una legge A questo punto facciamolo E' quit game Esatto Ok ora fermo un attimo la registrazione Quit game Fermiamo anche l'auto del telefono Cane uno Arrivederci gente Non si è fatto nemmeno l'altro Come si doveva Ciao 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 Io pensavo che si ritornasse dopo Ah si? Io pensavo tu volessi chiudere E poi riaprire No no si è Ah C'è da morire Ok Allora aspetta Che faccio? Rialcia Fa come ti pare Allora Solo webcam Solo webcam Eccolo qua Allora aspetta un attimo No bene io stoppo tutto Ascolta tanto Ok allora faccio Allora riavvio Facciamo Eh? Riavvio un attimo il video Facciamo un'auto Se proprio dobbiamo Va bene Va bene Va bene Almeno non li lasciamo Non li abbandoniamo Eh? Cosa? Cosa? Cosa è successo? Ben tu non hai idea di quanto Ti ho sentito a scatti Ti sento super a scatti E ora non ti sento più Ti sento un attimino Come sto parlando adesso Quanto cazzo fa schifo discord Madonna Dio Però quando parli con l'amico Stronzo del Maryland Ti riesci Ti ho sentito Bastante Quando invece Faccio le chiamate vocali Ben Io riavvio un attimo Quando vedrai Staparte nel mio video Se ne metti in scatti Anche se Aspetta un secondo Aspetta un secondo Perché è bellissimo Tu ti sfoghi un casino Stai zitto un secondo Stai zitto un secondo Cosa succede? Cipolla Sesseno Polpettone Ok gente Mi stavo lamentando con Katema Del fatto che Discord scatta Quando parli Però Oh Quando io invece faccio Le mie chiamate vocali Le mie chat vocali Con l'amico del Maryland Alle tre di notte Non scatta una sega E Katema invece Sta morendo Perché si sta divertendo Come un pazzo A sentire i miei scleri E non dico che fa male No Mi diverto perché Quando sei all'apice Dell'incazzatura Che va a scatti Cioè Sono incazzato come la merda E in più mi senti andare a scatti E' successo di nuovo Più ti incazzi E meno ti sto No No Sta tenendo Gotmama con me Vediamo se tenere Gotmama con me Tutto il fatto si risolve Si sta risolvendo O sono sempre più scattoso No Sei sempre più scattoso E vai a finirla qui Perché poi Se no va a finire male Che schifo Che schifo Fa tutto schifo Signori Torneremo la prossima volta Con Skype A la mano Perché qua Se no Con Skype che funziona Esatto E Insomma Basta Perché sono anche Sì Abbiamo fatto anche troppo Abbiamo fatto anche troppo Abbiamo fatto due ore Magari questo episodio Fallimentato Sull'ultima bomba Adesso è capitolo 5 Insomma Si sta sentendo scatti Anche io Facciamo un episodio Extra large Come? Quindi non saprà Mai che cosa ho detto Però Mi hanno sentito Benissimo Quindi se vedete Diversa Perché Allora Qua è tutto Degli Banana Freya Ciao Ciao Vuoi aggiungere qualcosa? A parte Cosa posso aggiungere? Potrei aggiungere Che Che Wittier È una cittadina Dell'Alaska Con massimo 200 abitanti Che abitano tutti In un unico palazzo Che cosa posso dire? Sai una cosa? Anche io Anche io devo fare Una conclusione Vedi Sto cominciando a Pensare Che forse Sto cominciando a pensare Che forse Eder Non è una persona Così carina Dopotutto Sto cominciando a pensare Mi haiudato Mi haiudato Appena mi metterai Webcam Mi volerò Dalle risame Qua c'è Perché ti spiego Ti spiego Dopo aver finito gli esami mi sono Sì, me l'avevi detto che ti eri riflippato E quindi niente, ci stava troppo bene Ci stava benissimo Ma dove hai saputo fare di me? E quindi niente Oddio, oddio, oddio Insomma, beh che dire Beh che dire Beh che dire, niente È stato, a parte Cioè la fine è stata fallimentare Il finale sarà stato fallimentare Ma credo che quel mio smatto sia Valso la pena Credo che quel mio smatto sia stata la parte più alta di tutto il video Non vedo l'ora di editarlo Non vedo l'ora di editarlo e rivederlo Qua continuano a tagliarti la voce Sì, anche perché sei messo molto meglio Bellissimo, allora ci prenderemo a culo Per il culo la vicenda quando vedremo i video Vabbè, vabbè Vabbè ragazzi, arrivederci Basta Io e Gotmama vi salutiamo tutti quanti E ciao Esatto Anche io ho il mio libro di architettura ragazzi Abbiamo passato anche troppo Arrivederci a tutti Io adesso mi inabisso Calo sempre di più E scomparirò nel sotto della webcam Non mi vedrete mai più Ciao E' assolutivo C'era anche la password Quanto cazzo è possibile Sarebbe possibile se il Discord non facesse saltare la merda Ora è stato riuscendo a venire il petto divino No, ora le trai Ora la voglio finire questa No, no, Ben, ascolta no Silenzio No, non ce la facciamo Perché con Discord non ce la facciamo Aspettiamo Linea, punto, punto, punto Silenzio Linea, punto, linea, linea Linea, punto, linea Linea, punto, punto, punto Punto, punto, punto Da capo Ligma Ligma Punto, punto, punto 3, 5, 5, 2 3, 5, 5, 2 Non va bene Non lo so 3, 5, 6, 5 Non va bene Cari normali Dimmi cari normali Non lo so Tem Aiuto Vieni qui Tem Mi fanno paura Questi venti divini Mi fanno più con me Sei cavi Vuoi che faccia un tastino da solo? Sì Va a qualcuno Non vuoi ricordarmelo No Ben Ascolta Mi hai fatto rovesciare l'acqua dalla bocca Non vedo l'ora di dire che ho perso il video Ben Ascoltami Ora Sei arrabbiato di tutto Ma così non risolviamo nulla Facciamo un'altra cosa Adesso Noi Non so Si è fatto Il bene Dell'ignoranza Eh Allora Tanto valeva far Tanto valeva far Norma Tanto valeva far Tanto valeva far